Milan che esce sconfitto da Firenze. 2-1, due rigori sbagliati, parliamone. Allora, intanto premetto, se fossi i giocatori del Milan mi vergognerei della prestazione, dell'atteggiamento di oggi in campo. Mi vergognerei perché non è plausibile che dei giocatori che indossano la maglia del Milan, professionisti, stipendiati, abbiano un atteggiamento in campo così poco professionale, a mio avviso, remissivo. Specie per chi indossa la fascia di capitano. De Hernandez è stato imbarazzante, imbarazzante. Tatticamente la Fiorentina ha giocato con umiltà, ha giocato con semplicità. Il Milan che ovviamente teneva tutti gli attaccanti in mezzo, liberando gli esterni. La Fiorentina 4-4-2, bella lì piazzata. Ma questa analisi qua vuole andare oltre l'aspetto tattico. Voglio andare oltre l'aspetto tattico. Voglio andare nella confusione, nel delirio, nel delirio che c'è in questa squadra che è evidente a tutti. Allora, Emers Royale, a mio avviso, non è proponibile. Non è proponibile, quindi c'è qualcuno che ha visto Emers Royale. Io, vi dico la verità, pensavo molto meglio. Avevo visto un giocatore molto meglio. Non è proponibile. Non è proponibile, quindi partiamo da un mercato, a mio avviso, sbagliato. Mercato sbagliato. Per il semplice fatto che prendi Emers Royale, sai che il Milan ha una carenza a destra, lo prendi peggio di quello che c'hai. Calabria. Prendi Pavlovich, non si sa perché, è sparito dai radar. Pavlovich, sparito da tutti i radar. Non c'è più. E vedendo il tomori di stasera, mi viene da sorridere. E mi viene da chiedere, ma dov'è Pavlovich? Ma cos'è successo con Pavlovich? Pavlovich, ha fatto le prime partite da migliore in campo e è sparito. Fa un minuto. Per quale motivo? Forse perché, se è reso conto della situazione, ha arzato un po' la voce per la personalità e l'hanno fatto fuori. Il principe Ibrahimovic, forse l'ha messo fuori. Giocatore buono, l'ha messo fuori perché, giustamente, si lamentava di certe situazioni. Fernandez, imbarazzante. Non so se avete visto, ragazzi, ci sono stati dei momenti cruciali in questa partita. La Fiorentina aveva preparato la partita, ovviamente, su cosa? Sulle incertezze di Leao e sulla non fase difensiva di Leao. La può fare una volta, la può fare due volte. Poi, buona, buona. Do-do-va, col pane si sovrappone e via discorrendo. Fernandez è solo contro due. E il Milan soffre sempre da quella parte là. Fofanà che viene dentro, il Milan si prova a metà treppe, andrà a fare le scalate, Pulisic che corre, Fofanà che rientra, Pulisic, Morata, Brahma. Tutto questo circolo, tutto questo circolo in funzione di un giocatore. Il Milan fa tutto questo circolo in funzione di Leao. Ma vi rendete conto? Cioè, tutto questo lavoro di corsa in funzione di Leao. Che al settantaquattresimo, giustamente, venga. Improponibile. Improponibile. E poi, la cosa che dico, ragazzi, è che qualcuno di voi lo difende. Qualcuno di voi lo difende. Su che base? Mi dite voi su che base lo difendete? Tutto questo giro, tutta questa problematica, di corsa, di corsa, va in riferimento che lo voglia lasciar là. Lo voglia lasciar là. Allora Pulisic rientra, Brahma rientra, Morata rientra. Però fondamentalmente c'è un problema, anche d'atteggiamento, di determinati giocatori, che fa la differenza. Perché il Milan, i giocatori, ce li può anche avere. Ma sono le scelte sbagliate, anche nelle sostituzioni. L'unico giocatore che vede la porta è Pulisic. Non si leva mai. Perché si leva Pulisic? Perché? Viene in panchina, giustamente, dice, why? Why? Perché io? Perché certo, mi fa un culo così tutta la partita. Un culo così. Fa cinque go. Sono quello che ha fatto più go di tutti. Mi levi? C'è da recuperare? Mi levi? Ma leva uno di quelli davanti. Non fanno go neanche io le mani. Ma perché? Perché corran come dei disperati. Ma perché non fanno go? Perché corran come dei disperati. C'è la sosta? Non cambia nulla. Dopo l'atteggiamento che c'è stato oggi nella partita, al di là dei rigori sbagliati, perché qui si cambia un rigore di sogno 3x2, per carità di Dio, i rigori erano anche tirati bene, non vuoi discutere sui rigori. Non discuto sui rigori. Discuto l'atteggiamento di determinati giocatori. Teo Hernandez e Leao. Tomori, il Mila prende go da rimessa dal portiere. Cioè, ragazzi, nei pulcini dei dilettanti, una palla da 40 metri si legge. Una palla da 40 metri si legge. Tomori non la legge. Cioè, ragazzi, quando ho visto quella roba lì, ho spento. Quando ho visto quella roba lì, ho detto, non è possibile. Ma come fai a prendere un gol da 40 metri, una lettura ad una palla che non salta neanche, Ekin? Cioè, vuol dire che non ci sei con la testa. Vuol dire che mentalmente non ci sei. Non è possibile. non è possibile. Non è possibile vedere una cosa del genere in Serie A. La Fiorentina ha fatto una partita a di là dei due rigori parati da De Gea. Ma il Milan è confusionario, non ha un'idea, sono tutti lì in mezzo. Ma poi vi posso dire un'ostra. Ma questi giocatori si vogliano bene. Ma questi giocatori si vogliano bene tra di sé. E' la base, eh. Si vogliano bene. C'è equilibrio nello spogliatoio. Non mi sembra. Perché può esserci anche un fatto che tutti, tutti hanno deciso di fare una cosa. Tutti hanno deciso di fare una cosa. Cioè, di correre. Ma l'equilibrio è sottile, eh. Quando uno, e avete capito chi, non fa la sua, salta la baracca. Perché è un accordo tra campioni. Si corre tutti. Però, tutti. Finché si fa, bene. Se uno non lo fa, e è recidivo, e succede, escano problemi. Escano problemi. Perché io mi sono segnato un minuto, 23 e 10, c'era, colpani, Dodò e Kinn, che mettevano Teo Hernandez nel mezzo. E Leao, che camminava, che camminava. e Fofanacca rientrava. Ma rientra e dagli una mano, no? Ma rientra e dagli una mano. Cammina. Ma lo sai chi è la colpa perché cammina? È la colpa vostra. La colpa è di chi lo si difende. La colpa è chi ne commenti lo difende. Ecco di chi è la colpa. Perché se tutti lo fischiano, se tutti lo fischiano, e prendono la posizione che prendo io da due anni, la posizione che prendo io da due anni, magari le cose cambiavano. Ma voi no. Ma voi no. Ma voi no. Si valorizza più volentieri Lui che un Polo Cristo come Pulisic. Si valorizza più Lui che come Pulisic. Cinque gol e corre a tutto campo. Andatevi a vedere le hitmap di Pulisic. Andatevi a vedere. L'atteggiamento. Ho parlato di tattica? Non ho parlato di tattica. Ho parlato di atteggiamento oggi. La fascia di capitano al braccio. Puoi sbagliare un passaggio. Puoi sbagliare una marcatura. Ma non puoi sbagliare l'atteggiamento. Se sei capitano del Milan non puoi sbagliare l'atteggiamento. Non lo puoi sbagliare l'atteggiamento. Mi dispiace, non lo puoi sbagliare. Non l'accetto. Non l'accetto. L'errore tecnico ci sta. Ma non l'errore caratteriale. Con un allenatore che secondo me è in confusione. Vince per inerzia. Vince per inerzia perché i campioni decidono di fare la giocata. Vi faccio illustrare le occhi per un 3-0 con Lecce. Io c'era a vedere la partita. Ho visto un equilibrio sottilissimo di squadra. Sottilissimo. Sottilissimo. che appena uno non fa quella mezza corta può salpare la baracca. Oggi è saltata la baracca. Oggi è saltata la baracca. Canale democratico. È un canale molto democratico. Vi aspetto nei commenti. Mettete like se la pensate come me. Mettete like se la pensate come me. Questo è il mio post partita. Non ho parlato di tattica. Ho parlato di atteggiamento. Di atteggiamento. Alla prossima.